Si sente? Puoi ad alzare? Buonasera a tutti e benvenuti a Prometeo. Circo Arci Giovane, abbiamo aperto a giugno. Forse per molti è la prima volta che venite qui dentro. Per noi è un piacere, questa sera è anche un po' un'emozione, avere Valerio Evangelisti a presentare il suo ultimo libro che si chiama Il Sole dell'Avvenire. E spero che tutti abbiate trovato posto, spero che troviate l'ambiente caldo e accogliente come è la terra di Romagna raccontata nel libro di Evangelisti. È un personaggio, Valerio Evangelisti, che non ha bisogno di presentazioni, direi. Nonostante tutto, proprio piccoli cenni, è nato nel 1952 ed è conosciuto forse soprattutto per il ciclo di romanzi fantasy ambientati nel Medioevo e anche nel futuro della saga di Nicola, serie dei primi visitelli. Questo gli ha anche valso il premio Urania nel 1993 ed è anche conosciuto come attivista online con Carmilla, che è una webzine di cultura letteraria ma anche di critica politica, che è molto attiva da diversi anni, è ancora molto frequentata e molto attiva. Diciamo che dopo un libro, magari lo leggerete, quindi non stiamo a parlarne troppo, se ci sia qualche problema con il microfono, però io sento un po'... Ok. Allora, fondamentalmente stasera presentiamo Il Sole dell'Avvenire, che è un libro che è ambientato nella nostra terra di Romagna, è un libro che parla degli umili, dei braccianti che a fine dell'Ottocento, in un momento di grandi trasformazioni sociali, economiche e anche tecnologiche, vengono a trovarsi spinti dalla campagna, fondamentalmente, che non dà più da mangiare, la terra che non è più sufficiente per far crescere e per dare da mangiare, verso la città, in cerca di lavoro, come braccianti, quindi come braccia, senza nessun tipo di pepezza. È un libro fortemente... Sperando... Sperando, sì, questo lo vedo. È un libro fortemente politico, ma anche molto storico, perché c'è un rigore profondo per ricercare tutta quella serie di aneddoti di storie locali, di personaggi locali, realmente vissuti, che si intrecciano, si intrecciano in due fasi del libro. È un libro anche molto... molto bello, di lettura molto scorrevole, anche tecnicamente fatto con capitoli molto brevi, che si leggono facilmente, con un intreccio anche delle storie dei personaggi che coinvolge fin dalle prime parti. Il libro, fondamentalmente, dicevamo, racconta della nostra terra in un periodo che è quello di inizio del recento, fondamentalmente, in cui queste grandi trasformazioni sociali ed economiche portano a un fiorire di movimenti politici, associazionismo, una miriade anche di neonati partiti che possono... che fioriranno per gli anni successivi. Il protagonista è un bracciante, Garibaldino, così si definisce. Sua... con... è la storia di questo bracciante, di sua moglie, Rosa, una donna, figlia invece di una famiglia di mezzali, e del figlio Canzio che è il rivoluzionario che vorrà andare anche a combattere in Grecia con altri italiani e tante. Fondamentalmente, quindi, anche i personaggi che parte, permette la prima domanda che vogliamo fare a evangelisti, all'autore, ed è che anche i personaggi stessi, le pagine del libro, proprio per le grandi trasformazioni che ci sono, e che sottengono a tutte le pagine del romanzo, fanno fatica anche a destreggiarsi tra questo magma di formazioni politiche, associazionismo, definizioni, c'è anche un cameo di un socialista vegano, un terriperano, e la prima domanda che volevamo farle è proprio questa, cioè se poteva inquadrare da un punto di vista storico, sociale e politico quello che è l'ambiente nel quale si muovono i personaggi che vengono raccontati.